Dovrebbero essere gli ultimi chilometri prima del passo Solo 3 settimane, meno di un mese fa, mi sembra, sono passato e era tutto verde Monde Fumaiolo, qua partono i sentieri, qua dovremmo essere, se non mi ricordo mai c'è anche una funivia C'è un rifugio e una funivia se non mi ricordo mai Probabilmente in qualche prato qua sopra si scia un po' Sì, eccolo qua Questo è proprio il passo del Monte Fumaiolo Qua sulla sinistra e sulla destra c'è un rifugio E se non mi ricordo male, sotto qua a sinistra c'è un sentiero che ti porta all'assorgente del Tevere Così dicono che sia l'assorgente Secondo me è il più comodo dei rigagnoli che poi vanno a formare quattro torrenti qua sotto che poi vanno a formare il Tevere Ma in realtà c'è più di una fonte secondo me Vabbè Andiamo avanti